Giorno di assicuzione, craco 52 secondi, ragazzi, Yagoda 5, noi dobbiamo andare, se non sbaglio, al ristorante per parlare con il tizio, se non mi ricordo male E qua? Ragazzi, non mi ricordo, è da poco che non gioco a Yagoda, sinceramente Un giornale, ok? Va bene Ok, no, questo tizio non l'abbiamo mai visto Questa qua è proprio, quasi Non mi ricordo come diceva, ma questo anche se non mi ricordo, non mi ricordo Ma, se non mi ricordo, se non mi ricordo, se non mi ricordo, se non mi ricordo No? Che cosa stai? Sei che ti sopra che ho cominciato? Probabilmente questo? Certamente, mettete i amici. E' un po' che cosa ti aspettavi? E? C'è cosa che voglio dire? C'è una cosa di Nagoya, ma... Oh... C'è vero... C'è un po' che tu mi chiede così... ... 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 E' anche quello che mi ha fatto, ma... ...dì... Cosa? Hai ragione di aver risposto a Nagoya? ...Di... ...dialmente non mi raccomandai... ...dia mi chiede. ...che loro sono... ...di ogni cosa? ...che loro... ...e 15 anni... ...che loro sono stato un po' di più... Ah, quando sono stati sgamati sono andati via Come è stato un grande piano della famiglia Nagoya secondo me No, no, non mi ricordo Si è staccata la webcam per qualche motivo strano Vabbè, pazienza facciamo senza Non so perché si è spenta No, vabbè, pazienza dai Come è OBS secondo me Eh, vabbè, che spalle però Oh, madonna Oh, madonna Oh, merda Ah, è tisse della penna nella bocca Oh, madonna 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 Madonna Oh, 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 madonna Che palle, fanno sempre il casino fuori. Oh, il pallo! Il pallo di... Aia! Scusami? Quello non è il barista, quello lì. Non è il barista, quello lì, marrano, vigliacco. Poi ho detto scusa, però. No, sono tutti intramacciati, tutti... No! No, no, dai! No! Era una trappa un osso incredibile, no! Ci odiano tutti quanti! No, anche Milkshan, no! No, no, vabbè, che peccato! No, vabbè... come quella è la vecchia il tizio che mi hanno fermato la prima volta il primo episodio di Sinada mi sembra o 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 ma no o 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 Cosa hai detto? Questo è un lavoro di un uomo! Mi sono... Ussijima! E... io lo faccio. Era tutto un troppo lozzo. Lo fa? Lo fa o non lo fa? Lo fa su serio? Ma chi ti conosce? Chi è della... E questi chi cazzo sono? Ma questa è la vera famiglia Nagoya, mi sembrava strano. Dio Kubota... Si tiene una santa, ma non aspetta. Vivo! Ci credo che parli. Che cazzo succede adesso? Che cazzo è arrivato l'altro caso! Non mi ricordo mai il nome di questo qua! Ma in realtà è un grandissimo, è un bro questo qua Pensavo che fosse uno stronzo È un bro incredibile Ma ragazzi, ma sono esterefatti, ma che è sta roba? Adesso picchi Prima per strada e scappava Adesso, oh madonna, c'è pure questo qua No, no, vai, vai Noi picchiamo tutti Tiè No, l'ho lisciatissimo Vai Tiè Placca tutti Così si fa Mori Chi è? Tanto Oh, eh Dunque, anche se si inanda, probabilmente Bisognerebbe giocarlo con le armi Il suo modo di picchiare non mi dispiace, sinceramente Cioè, è molto carino il suo fighting Cioè, fa danno E però questi stronzi mi hanno un po' rotto le palle Per un attimo, eh Nel 1 contro 1 fa benissimo Però Nei bro non va molto bene Ci nada Però, vabbè, dai Eh, vaffanculo Però se faccio così Tecnicamente Dovrei farcela Perché uno prenderebbe l'asta Quella Il palo Il palo grande Che No, si è andata a non fumare Ma si è andata a fumare Guarda, scusate Guarda, quando? Non credo l'hanno mai fatto vedere che fuma Chi è? Dai Perfetto Anche questo qua è morto Picchialo col palo Perfetto Ok Meglio che ce ne andiamo fuori Non ti girare come Come in un microonde Ha fatto Ha fatto Cioè Devo scappare dal muletto, vero? Devo scappare dal muletto Va bene Corri via In che senso? Aiuto Eh, ma scusa Ma come funziona? Eh Hai visto? Altro non so Aia Che male Cos'è che ho detto prima? Questa qua sembra molto Aia Aia Questa qua sembra molto Eh Come Aia Questa sembra molto Scena da scappare Cos'è che ho detto prima? Eh Paresemente scena da scappare Però io Come faccio? Come faccio io Non è possibile Darmi un po' di muletto Però Cioè Come è possibile? Aiuto Eh ma che cazzo vuol dire? Che sta roba Ma paresemente Più veloce di me Cioè Io come faccio? Ragazzi Ma cos'è? Non ha molto senso Eh Cioè Magari devo farlo schiantare Con le altre robe Però Eh Aia Questa cosa non ha senso Io lo dico Eh Cioè Posso capire Che Ma non ha senso Così Scappare da un po' di muletto Che va Più velocemente Qualsemente più veloce di me Merda Il time event sicuro Sono prontissimo Ah no? Ma questo è impazzito No tanto Ma Cosa cazzo succede? Ma questa è l'intro del gioco Questa Cazzo l'importante? Sembra di sì Ah no Non è una cazzo l'importante Sembrava una cazzo l'importante Ehm Un attimo che mi curo Un secondo Proprio veloce E non farmi Ho ho Che è? Vabbè Questo avrà super giga armor Questo qua Sto faccia da culo Ule Vabbè Ma c'ha C'ha musse del cazzo Questo qui C'è Di cosa stiamo parlando Ui Psyno Ma quindi La cosa è Aspettare che lui lo grabbi E poi picchiarlo Ok Dai grabbelo Ai Eh sì Vabbè Aspetta Ah Vedete come un'incredibile C'è prima Ma fra tutto Lo smug E Cui palli E dopo scappa Ma sembri uno stronzo Cosa Prendi 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 questo Ah Ura Guarda quando It si fosse fuori Dai mi Y Ok Però sai cosa Io questa la metto via No ma sei impazzito Eh Perché non posso Metterla Come si faceva a metterla via Che palle Ah C'è una mazza da baseball Io ho detto che Sinada non vuole usare Le mazze da baseball No Non le vuole usare E sparisce nel nulla Vabbè Ti picchio così Tanto Questa è molto carina in realtà E' ancora vivo questo No Questa qua No C'è un'altra arma che posso usare Non posso neanche Ok Adesso mi chiede perché Probabilmente non si può usare Il Eh ok Guarda Basta che non mi gra Oh cosa ha tirato fuori Per te Non si fa Vai così Uff Ci stava Un counter Concienata Ci stava Sinceramente Sinceramente parlando Ma cosa fa questo con il coltello Non fare Eh vabbè Con il coltellone Aspetta ci sono dei pali qua Che posso usare Che non servono a molto però Ok Ma non il secondo Non serviva Non serviva la seconda Dammi la spada Dammi il coltello Bastardo Ma che casino Cosa tira la roba qualcuno lì Tira la roba Ok Quanta gente c'è però qua Devo far così va Via Via dalle palle Eh vabbè Eh sì Che brutello Facciamo così va Dammi il coltello Infame Marrano Ma non lui Non grabbare lui Grabbare lui Ma cosa fa Sinada Che cazzo fai E vabbè Non ce la famo Facciamo così va Facciamo tutti Tie Tie Aia Vabbè oh Così funziona Non farà molto danno Però almeno funziona Però qui non c'è un'arma Non c'è niente Non c'è niente va Non c'è un cazzo proprio Mamma mia Che casino però Ok questo è andato Questo con il coltello Mi ha proprio rotto I kabasisi Ma che Ma mori Ola Vedi RT put away Ammazzo Si è rotto il coltello subito Che palle Tutto sto casino Per reperire il coltello Opla Vabbè Maledetti voi Tutti quanti Guarda sono i puliziotti Ci sta la gente Comune Che Ma guarda che Guarda questo stronzo Ma sei normale Se questo qua Ha preso il coltello Da terra subito Immediatamente Ma un secondo È passato Mezzo secondo No Non serve Non serve Altra roba Chi è L'ha preso L'ha preso Il mio compagno Il coltello Ma brutto Idiota Magari Adesso ti tira la culata Perfetto È Svenuto malissimo Prendi questo Curati Nella Santinella Magari Con questo qui Sapete Dovrei Andarmi a guardare Come fare Le armi Quelle belle Però Rottura Di coglioni Sinceramente Eh vabbè Questo qui Questo qua Don't forget it Che sono tutte le Touch on Quelle armi Purtroppo Che io Non Cosa fa Cosa fa questo Ma si è rotto subito Cosa mi serve C'è una spada lì Prendi la spada Il passito Proprio Prendila Madonna ragazzi Madonna ragazzi Ammazzo tutti Adesso Donk Proprio donk Ha fatto Non ho fatto Non ho fatto Non ho fatto Molto danno Però Speriamo Abbiamo Ammazzato Di quelli Normali Perfetto Mettile la spada Adesso Tipico Normale Ma no Ma Perché lo chiamo Katsuragi Katsuragi Non è Katsuragi Non è Quello di Yakuza 4 Katsuragi Puoi morire O no Lo so Però C'è questo qui Che vive Ok Dai Fatti sotto Aia Mi vola Fa volare Malissimo Ma guarda Sto faccia Da culo Non voglio smettere Di ripararti O no Aspetta C'ho super Intaccio Non ho da fare Aia Dai Y Finalmente Ora Un po' Di danno Dai Ho anche Iconi Da usare Non posso Usare Iconi Perché Me li metti Di allora Se non posso Usarli Eh Aia Aia Ti taclo Non funziona Non c'è un culo Ma Ha funzionato Ha una scivolata Ma basta Scappare Via Che poi Corre così Andiamo Guarda lì Quanta gente Ma si può Ma si può Vivere così Prendi sto qua Prendi il palo Qui Posso muovermi O no Quanto male No Fai così Va Fa un po' Di questo Fai un po' Di questo Anche Fai un Y Prendi un Fai si è scassato Tutto Surdo Ok Tu Tu mi servi Non così Però Vabbè mi tira Gli schiaffoni Mi tira Gli schiaffoni Mi tira Tutta gente Lo Mannaggia voi C'è niente Non c'è niente qua Come non ce lo vedo Shinada Che ammazza Che picchia tutti quanti Cioè Kiryu si A chi ama Un pochino Per Shinada Però Shinada E' quello Meno opportuno Com'è Ammazzare Picchiare 27.000 persone Com'è Perché Shinada E' più Una persona normale Circa Però Vabbè dai Se ne frega Se avessi un'arma Sarebbe un po' più Realistico Però non ho un'arma Quindi sti cazzi Cioè Perché se noti Se notate Tutte le Itaction di Shinada Normali Cioè Sono normali Cioè Non è che Ammazza Fa 27 calci A uno Cioè La sua Super itaction E trascinare Uno per terra Cioè Cioè Che vivo ancora Tu Cioè Basta vedere Le itaction Degli altri Le ultimate Degli altri Cioè Vabbè Anche Le itaction Cioè Le itaction La La mossa speciale Quella Delete Del it Rosso Che dà Laura rossa È normalissima Dai Mi dice Vogliamo picchiare Su serio No Cioè Mamma mia Oh Che palle Non ho più la spada Perché Non vai a capire tu Perché non ho più la spada Cioè Non capisco Perché non ho la spada Me l'avevo messa in tasca Sto per morire Aspetta un attimo Manco mi ero accorto Guarda Manco mi ero accorto Che stavo per morire Vai vai Facciamo fuori questi Prima Dopo rompere le palle Se no Y Non ha Ma che puttana Quanta cazzo di vita hanno questi Tie Eccola la katana mia Aspetta Prima Prima tira fuori Prima usa lit Prima Tira un po' su di lit Prima Aia però Tutti stronzi siete Pittaclo Ah scemo Chi è Chi è Perfetto Quindi la katana Fai Ma che non fai Ah che palle Madonna L'ho usato come un'ammazzata baseball Scusami Y Ma no Singola Anche tu scinata Fai light action singola Tu sei scemo Che palle Usiamo questo Mi fa light action singola Mi fa Oh Adesso Adesso è quello che volevo fare io Ma perché Mi fa light action Quella singola Sei un idiota Allora Fatelo dire Vabbè Facciamo così A sto punto Aia Facciamo di questo Allora Quanti colpi ha La comodicina Quanti colpi Ha mutito Incredibile Veramente È la cosa più opportuna Da fare Secondo me Piazzi la katana Ma può morire questo No Eh scoppia Oio Chi è Uh Lo faccio pure Non gli faccio Niente di danno Niente Picchialo Prendi il palo Qui Parati Mamma Incredibile Che È Sto Come È L'unico Di lanciare Baseball Vabbè Dai Però Che palle Tu non puoi Continuare A pararti Può fare Sempre Il momento Ma Sto Posto Il gigante Ma Cos'è Siamo Da 20 minuti Ti stiamo Picchiando Ma Cos'è Ma È normale Ma Prendi il pulito Qui Allo Sotto Eh Va Bene Quello È Una cazzo Di pistola Aspetta Oh Madonna No No Questo Deve morire Male No No Ti Grabo Non Interessa Si è Spalmato Sul Muro No Tu Hai Plurità Incredibile Sono Pi Coglioni Grabalo Stampalo Sul Muro Ti Buttalo Via Prendi La Pistola Spara Mamma Non fa Un cazzo Di Danno Però Va Ben Uguale 27 Colpi Non Crema Nessuno Dov'è La Quando Serve Aspetta Un secondo Questo Conte Si è Incazzato Nero Vuoi morire O no Eh Vaffanculo Ah Scemo Voglio Vedere Musel Del Conte Se Ammazza Ma Perché Tese Sempre Un anno Fortissimo In tutti Gli Yakuza È Fortissimo Il tese Negli Yakuza Non ha Senso Vabbè Metti Via Non posso Mettere Via E' Palle Vabbè E' Molto Andiamo Avanti Dai Uomo Non è Possibile C'è Una Mappa Wow Stiamo Per Arrivare Allo Sbocco Ancora Lo Sugergiullo Fai Non è Tipo La Settima Volta Che Ti Picchio Male C'è Altra Gente No Perché Dietro Di Me Non Ha Molto Senso Però Eh Andami Taser Mio Che Cazzo Fa Picchialo Stallocalo Che Minchia Ma Così Stallocalo Malissimo Non è Un'idea Ma Il Taser E' Sempre OP Non Ha Senso Ma Che Roba Che Possa Il Taser OP Ti Curo Morte Ti E No Mi Ha Parato Taser Come Ti Permetti Ma Che Roba Adesso Faccio Così Così E Morto L'arma Di Distruzione Di Massa Vado In Giro Mi P Io Ho 26 Taser Guarda Mamma Mia Fortissimo Taser Da Kiwami Due Fortissimo Finito Sinada Adesso Forse Stato Chirio Farebbe Ha 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 Son Fortissimo C'è Chirio picchiato Tutta la gente Al porto E non L'ha Fatto Una Piega Che Ma Non Sembra Tanto Però Sennada È Incazzato Un triste Incazzato yes Sudah Not Nó Te It Sng Grazie a tutti Grazie a tutti Dai è lui parecemente lui Ci sono stato subito io 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 Ci sono 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 subito Ci sono subito io Oh che palle però è E va bene Un altro boss Va bene dai Ma cazzo due barre della vita questo Vabbè Carrello Chi è Carrello rotto No no aspetta un secondo Fammi piare questo È stronzo Guarda che pezzo di merda Mi l'ha pure scassato Ma sai un infame bastardo Guarda Ti buco Aia Pezzo di merda Guardate Lo giuro Guarda Basta che gli faccio una I touch on sola Dopo gli faccio quella super Guarda Questa Quella là ci fa il tifo E l'altro è morto Per terra Ti è Non hai i touch on con la katana normale Eh sì che ce l'abbiamo Guarda quante Ma Vuoi fargliela sta cosa o no? Picchialo Metti via Ti è Non tanto Non tanto però Bene dai Ti taunto pure guarda Non mi taunta Pezzo di merda Ma perché Dov'è la spada Ogni volta Sparisce Ma guarda te Che cazzata Ma dov'è? Va bene Va bene Senti No E non posso pararmi Giustamente Anch'io Che cazzo faccio? Ah Coltello Ok Che è? Picchialo Stalloccalo No raga Ma che cosa è? Ma si è nata con le armi E' fortissimo Ma che cazzo è sto guardando? Non mettere via le armi però E' E' Y Subito Ok Avere un coltello E una katana Per favore Che Che cazzo è Penelizzo Dov'è un coltello Una katana Infiniti Devo cercare Di procurarmeli Per forza Bisogna Assolutamente E' Sinada E' Grazie a tutti Grazie a tutti Mi hanno chiamato il grande capo E uno sa E' l'allenatore Pezzente Perchè? Per quale motivo? No, adesso voglio capire Oh, che palle Verità fuggente Mamma mia Sono proprio messi bene qua Oggi C'è tutto questo casino per proteggere Per mandare via il Tojo clan E l'Union Alliance E basta Ma perchè? C'è in Dresinada Però anche lui C'è anche lui È il grande capo Anche lui Quindi non è lui il grande capo C'è lui il capo della famiglia Nagoya Ma sopra c'è ancora uno C'è anche lui Oh, che c'è così? No Questo è un'altra cosa del trade. Mi sapevo che lo chiedi. Ma se non riesco a prenderlo? Prendi. Questo è un sogno come un giro di gioco. C'è un po' molto depresso. È mattina. Sembra che ho dormito per anni. Ah, giusto. Devo dirlo che è il tipo là. Ah, dai! Come hai? C'è alcune informazioni, ma... Aspettate. Sì, non è comunque contento, Shinarada. Sempre la faccia contenta, c'è il suo modello. Sono sicuro che ci metterà il tempo. Ma io usciamo. No, no, ragazzi. Per questo è veramente Yakuza 5. L'abbiamo concluso. Se è giusto, mi piace. Comentare se vi ci vediamo al prossimo video. Io devo andare a far cena perché è solo le 21 e mezza. E io ho fame.